Anche l'amministrazione comunale di Ariano Irpino partecipa e è aderita all'iniziativa dell'amministrazione di Messina per proporre ricorso alla Corte Europea contro la riforma della geografia giudiziaria. Sì, posso anticipare che il comune di Ariano già da tempo era in corrispondenza con il comune di Mistretta e con altri comuni sede dei tribunali soppressi per organizzare un ricorso articolato da presentare alla Corte di Giustizia Europea relativamente alla riorganizzazione della geografia giudiziaria nella comunità nazionale. E quindi il comune, sollecitato anche dagli ordini professionali soppressi, si è organizzato dando la sua adesione a questa importantissima iniziativa. Ma questo che significa, avvocato, che potrebbe riaprirsi il discorso riapertura tribunali soppressi? Ma sicuramente non bisogna archiviarlo assolutamente, noi non l'abbiamo mai fatto, per cui continueremo nel solco di queste iniziative che possono sicuramente dare spazio ad una possibile riapertura, quantomeno vi ricorderete qualche tempo fa abbiamo parlato anche di istituzioni di sedi periferiche. Insomma, stiamo andando avanti su più latitudini, potremmo dire.